Un breve riposo. Quel giorno non cantarono né raccontarono storie, anche se il tempo era migliorato, e neanche l'indomani né il giorno successivo. Avevano cominciato ad avvertire che, da tutti i lati, il pericolo non era lontano. Si accampavano sotto le stelle e i loro poni avevano da mangiare più di loro. Infatti c'era erba in abbondanza, ma non c'era molto nelle loro bisacce, considerato anche quello che si erano procurati dai troll. Un mattino guadarono un fiume in un punto ampio e poco profondo, risonante contro le rocce fra schizzi di spuma. La riva opposta era scoscesa e sdrucciolevole. Quando vi arrivarono in cima, conducendo a mano i poni, videro che le grandi montagne erano ormai vicinissime. Subito pensarono che ormai ci volesse solo un giorno di viaggio per giungere ai piedi di quella più vicina. Scura e desolata essa appariva, benché ci fossero macchie di sole sui suoi fianchi bruni, e dietro alle sue spalle scintillassero le punte delle vette nevose. «E' questa la montagna», disse Bilbo con voce solenne, guardandola con occhi sbarrati. «Non aveva mai visto una cosa tanto grande in vita sua». «Certo che no», disse Balin. «Questo è solo l'inizio delle montagne nebbiose, e bisogna che in qualche modo passiamo al di là, al di sopra o al di sotto di esse, prima di poter giungere nel deserto che sta dietro». «E c'è un bel po' di strada anche dall'altra parte, fino alla montagna solitaria a est, dove Smaug giace sul nostro tesoro». «Oh», disse Bilbo, «e proprio in quel momento si sentì più stanco di quanto ricordasse d'essermai stato prima». Pensò una volta di più alla sua comoda poltrona davanti al caminetto nel suo soggiorno preferito della sua caverna Hobbit e alla cuccuma che fischiava. E non fu l'ultima volta». Adesso Gandalf era passato in testa. «Non dobbiamo smarrire la strada o siamo fritti», disse. «Abbiamo bisogno di cibo, tanto per cominciare, e di riposarci in un posto abbastanza sicuro. Inoltre, è assolutamente necessario affrontare le montagne nebbiose sul sentiero giusto, altrimenti ci si perde, e bisogna tornare indietro e ricominciare tutto da capo, ammesso che si riesca a tornare indietro». Gli chiesero dove si stesse dirigendo ed egli rispose. «Siete arrivati proprio al confine delle terre selvagge, come forse alcuni di voi sanno già. Nascosta da qualche parte davanti a noi c'è la bella valle di Forra Spaccata, dove Elrond vive nell'ultima casa accogliente. Gli ho inviato un messaggio tramite i miei amici, e siamo attesi». Questo suonava molto bello e consolante, ma ancora non erano arrivati fin là, e trovare l'ultima casa accogliente a ovest delle montagne non era così semplice come sembrava. Pareva che non ci fosse albero, valle o collina ad interrompere il terreno di fronte a loro, solo un vasto pendio che saliva lentamente sempre più in su, fino ad incontrare i piedi della montagna più vicina, un ampio terreno color erica e roccia sgretolata, con macchie e radure d'erba e musco che indicavano dove poteva esserci dell'acqua. Passò il mattino, giunse il pomeriggio, ma in tutto quel deserto silenzioso non c'era traccia di nessuna dimora. La loro ansia cresceva, perché ora si rendevano conto che la casa poteva essere nascosta quasi dovunque tra loro e le montagne. Giunsero sopravalli inattese, strette dai fianchi ripidi, e si aprivano improvvisamente ai loro piedi, e guardarono giù, meravigliati, di vedere alberi sotto di loro e corsi d'acqua sul fondo. C'erano canaloni che si potevano attraversare quasi con un salto, ma molto profondi e con molte cascate. C'erano precipizi scuri che non si potevano attraversare né saltando né calando vicisi dentro. C'erano acquitrini, luoghi verdi e piacevoli da guardare, con fiori che crescevano vividi e alti, ma un pony che vi camminasse con una soma sulla schiena, non ne sarebbe mai più uscito fuori. Veramente dal guado alle montagne si stendeva un territorio molto più vasto di quanto si sarebbe mai potuto immaginare. Bilbo era stupefatto. L'unico sentiero era segnato da pietre bianche, alcune piccole e altre semi nascoste dall'erica e dal musco. Seguire la pista era, tutto sommato, una faccenda assai lenta, benché fossero guidati da Gandalf che sembrava orizzontarsi molto bene. La testa e la barba dello stregone si chinavano ora da una parte e ora dall'altra, mentre cercava le pietre, ed essi seguivano le sue indicazioni. Ma quando il giorno cominciò a declinare, non sembrava che si fossero avvicinati di molto alla fine della loro ricerca. L'ora del tè era trascorsa da tempo, e sembrava che anche per l'ora di cena sarebbe stato, tra poco, lo stesso. C'erano delle falene che svolazzavano tutto intorno, e la luce si fece sempre più fiocca, perché la luna non si era ancora levata. Il pone di Bilbo cominciò ad inciampare sopra radici e pietre. Arrivarono sull'orlo di un ripido dirupo così all'improvviso che il cavallo di Gandalf quasi scivolò giù per il pendio. «Finalmente ci siamo!» gridò, e gli altri gli si affollarono intorno e si sporsero a guardare. In basso, lontano, videro una valle. Potevano udire la voce dell'acqua che scorreva frettolosa in un letto roccioso sul fondo. Nell'aria c'era il profumo degli alberi, e c'era una luce sul lato della valle al di là del fiume. Bilbo non dimenticò mai il modo in cui sdrucciolarono e scivolarono all'imbrunire giù per il ripido sentiero zigzag entro la valle segreta di forra spaccata. L'aria diventava più calda via via che scendevano, e l'odore dei pini lo insonno lì, sicché ogni tanto la testa gli cadeva sul petto e lui quasi scivolava giù dalla sella o batteva il naso sul collo del cavallo. Il loro morale si risollevava man mano che scendevano in basso. Ora gli alberi erano faggi e querce, e c'era un senso di serenità nel crepuscolo. L'ultimo verde era quasi svanito dall'erba, ma infine giunse ad una radura non lontana dalle sponde del ruscello. «Mh, sento odore di elfi», pensò Bilbo, e guardò le stelle sopra di lui. Brillavano vivide e azzurre. Proprio allora esplose tra gli alberi una canzone simile ad una risata. «Cosa fate? Dove andate? Questi poni? Via, ferrate! Scende il fiume con cascate. Tra l'allero l'erollà nella valle, proprio qua. Che cercate e che mirate? Le fascine son bruciate, le focacce bentostate. Tra l'allero l'erollà questa valle è una beltà. Dove andate? Dove andate con le barbe scarmigliate? Come mai vi domandate? Come mai vi ritrovate, Mr. Baggins, Balin, Dualin, nella valle questa estate? Qui restate o ve ne andate? Spersi i poni, cosa fate? Muore il dì, non progettate di partir, sono mattate. Tanto bello essere restate ed attentici ascoltate, fino all'ore più inoltrate a cantare le ballate. Così ridevano e cantavano tra le fronde degli alberi. So bene che voi le giudicherete graziose sciocchezze, non che gliene importerebbe. Semplicemente riderebbero ancora di più. Erano elfi, ben inteso. Presto Bilbo poter dar loro qualche rapida occhiata mentre il buio si infittiva. Amava gli elfi, anche se li incontrava raramente, ma allo stesso tempo ne aveva un po' paura. I nani poi non vanno molto d'accordo con loro. Anche nani abbastanza perbene, come Torin e i suoi amici, pensano che essi siano dei pazzi. E pensare una cosa simile è proprio una pazzia. O ne sono irritati? Il fatto è che alcuni elfi si burlano e ridono di loro, soprattutto della loro barba. «Bene, bene», disse una voce. «Guarda un po'. Bilbo lo hobbit a cavallo di un poni, niente meno. Che spettacolo!» Davvero sorprendente, meraviglioso. Poi si imbarcarono in un'altra canzone ridicola quanto quella che ho riportata per intero. Alla fine, un giovane alto venne fuori dagli alberi e si inchinò di fronte a Gandalf e a Torin. «Benvenuti nella valle», disse. «Grazie», disse Torin un po' bruscamente. Gandalf invece era già sceso di sella e chiacchierava allegramente con gli elfi, stando in mezzo a loro. «Siete un po' fuori strada», disse l'elfo. «Cioè a dire, se vi state dirigendo all'unico sentiero che attraversa il roscello e porta alla casa dall'altra parte, vi mostreremo la via giusta. Ma fareste meglio ad andare a piedi fino a che non avrete attraversato il ponte. Volete fermarvi un po' a cantare con noi? O volete continuare subito? Di là stanno preparando la cena», disse. «Posso sentire l'odore della legna che arze nella cucina». Stanco com'era, a Bilbo sarebbe piaciuto fermarsi un poco. Il canto degli elfi a giugno sotto le stelle è una cosa che non va persa, almeno se si tiene a queste cose. Inoltre, gli sarebbe piaciuto scambiare qualche parola in privato con queste persone che sembravano conoscere il suo nome e sapere tutto su di lui, anche se non li aveva mai visti prima. Pensava che la loro opinione sulla sua avventura poteva essere interessante. Gli elfi sanno un sacco di cose e sono meravigliosi per quanto riguarda le notizie. Vengono a sapere che cosa succede tra le genti del paese con la velocità con cui scorre l'acqua, o più velocemente ancora. Ma per il momento i nani erano tutti in favore dell'idea di cenare al più presto possibile e non vollero fermarsi. Si incamminarono tutti, conducendo i poni a mano, finché non furono guidati su un buon sentiero e finalmente proprio alla sponda del fiume. Esso scorreva veloce e rumoroso, come fanno i rivi montani nelle sere d'estate, quando il sole ha sfolgorato tutto il giorno sulle alte nevi lontane. C'era solo uno stretto ponte di pietra senza parapetto, così stretto che un poni poteva appena passarci sopra, e sopra di esso dovettero passare, lentamente e con attenzione, uno dopo l'altro, ciascuno conducendo il suo poni per le briglie. Gli elfi avevano portato sulla riva delle lanterne luminose e cantarono un'allegra canzone mentre la compagnia attraversava. «Non immergere la barba nella schiuma, padre!» gridarono a Thorin, che stava chino quasi carponi. «E' già lunga abbastanza anche senza innaffiarla!» «Attenti che Bilbo non si mangi tutti i dolci!» trillarono. «E' già troppo grasso per riuscire a passare attraverso il buco della serratura!» «Shh! Zitti! Buona gente! E buonanotte!» disse Gandalf, che era l'ultimo. «Le valli hanno orecchie e certi elfi cianciano un po' troppo allegramente! Buonanotte!» E così, finalmente, arrivarono tutti all'ultima casa accogliente e trovarono le porte spalancate. Certo è una cosa strana, ma sta di fatto che a parlare delle cose belle e dei giorni lieti si fa in fretta. E non è che interessi molto ascoltare. Invece, da cose disagevoli, palpitanti o addirittura spaventose, si può fare una buona storia o comunque un lungo racconto. Rimasero per un bel po' in quella casa confortevole almeno quattordici giorni e trovarono duro andarsene. Bilbo sarebbe stato contentissimo di fermarsi lì in Sempiterno, anche supponendo che un desiderio esaudito per magia lo avesse riportato senza guai dritto alla sua caverna Hobbit. Eppure, di quel soggiorno c'è poco da raccontare. Il padrone di casa era un amico degli elfi, una di quelle persone in cui i padri compaiono nelle strane storie anteriori all'inizio della storia, nelle guerre tra gli orchi malefici, gli elfi e i primi uomini del nord. Nei giorni in cui si svolge la nostra storia c'erano ancora delle persone che avevano perantenati sia gli elfi sia gli eroi del nord e Elrond, il padrone di casa, era il loro capo. Era nobile e bello in viso come un sire elfico, forte come un guerriero, saggio come uno stregone, venerabile come un re dei nani e gentile come la primavera. Compare in molte storie, ma la sua parte in quella della grande avventura di Bilbo è piccola, anche se importante, come vedrete, se mai ne arriviamo alla fine. La sua casa era perfetta, che vi piacesse il cibo, o il sonno, o il lavoro, o i racconti, o il canto, o che preferiste soltanto star seduti a pensare, o anche se amaste una piacevole combinazione di tutte queste cose. In quella valle il male non era mai penetrato. Vorrei avere il tempo di raccontarvi almeno qualcuna delle storie o riportare una delle canzoni che udirono in quella casa. Tutti quanti, perfino i poni, si rinfrancarono e si rinforzarono in quei pochi giorni che vi trascorsero. Fu presa cura dei loro abiti come delle loro ammaccature, del loro umore e delle loro speranze. Le loro bisacce furono riempite di cibo e di provviste leggere da portare, ma tanto sostanziose da permetter loro di passare al di là dei passi montani. I loro piani furono migliorati da eccellenti consigli. Così si arrivò a Ferragosto, ed essi dovevano rimettersi in cammino, proprio la mattina di Ferragosto, al Sorger del Sole. Elrond sapeva tutto su qualsiasi tipo di runa. Quel giorno guardò le spade che essi avevano portato via dal covo dei troll e disse «Questa non è fattura di troll. Sono spade antiche, spade antichissime, appartenenti agli elfi alti dell'Ovest, alla mia famiglia. Furono forgiate a Gondolin per le guerre contro gli orchi. Devono provenire dal tesoro di un drago o dal bottino degli orchi. Infatti draghi e orchi distrussero quella città tanto tempo fa. A questa, Thorin, le rune danno il nome di Orchrist, che vuol dire Fendi Orchi nell'antico linguaggio di Gondolin. Era una lama famosa. Questa, Gandalf, era Glamdring, la batti nemici, che un tempo era cinta dal re di Gondolin. Conservatele con cura. Chissà da dove se le erano procurate i troll, disse Thorin, guardando la sua spada con un nuovo interesse. Non saprei, disse Elrond, ma si può immaginare che i vostri troll avessero depredato altri predoni o che avessero messo le mani sui resti di antiche ruberie in qualche rifugio sulle montagne. Ho sentito dire che ci sono ancora tesori d'altri tempi, che sono stati dimenticati e che debbono ancora essere ritrovati nelle caverne abbandonate delle miniere di Moria dopo la guerra tra i nani e gli orchi. Thorin ponderò queste parole. Terrò questa spada in grande onore, disse. Passa presto tornare a fendere orchi. Un desiderio che probabilmente sarà soddisfatto abbastanza presto sulle montagne, disse Elrond. Ma adesso mostratemi la vostra mappa. La prese e la fissò a lungo e scosse la testa, poiché se non approvava interamente i nani e il loro amore per loro, odiava i draghi e la loro crudele malvagità e lo rattristava a ricordare la rovina della città di Dale e le sue allegre campane e le rive bruciate del luminoso fiume fluente. La luna brillava in una larga falce d'argento. Egli sollevò la mappa e la luce bianca splendette attraverso di essa. Che cos'è questo? Disse. Ci sono delle lettere lunari qui, accanto alle rune visibili, che dicono la porta è alta un metro e mezzo e ci si può passare in tre per volta. Cosa sono le lettere lunari? Chiese la Hobbit, pieno di eccitazione. Amava le mappe, come vi ho già detto, e amava anche le rune e le lettere dell'alfabeto e la bella calligrafia, anche se quando scriveva faceva delle sottilissime zampe di gallina. Le lettere lunari sono rune, ma non le si può vedere, disse Elrond, non quando le si guarda direttamente. Si può vederle soltanto quando la luna brilla dietro di esse, ma ciò che conta di più, anzi, il punto fondamentale è che la luna deve trovarsi nella stessa fase e nella stessa stagione di quando le lettere furono scritte. Furono inani ad inventarle e le scrissero con penne d'argento. Come potrebbero dirti i tuoi amici? Devono essere state scritte in una notte di ferragosto, quando era luna crescente molto tempo fa. E cosa dicono? Chiesero contemporaneamente Gandalf e Thorin, forse un po' scossi dal fatto che qualcun altro, sia pure Elrond, avesse dovuto scoprirle per primo, benché veramente non ce ne fosse stata la possibilità prima d'allora e non ce ne sarebbe stata più un'altra per chissà quanto tempo. Sta vicino alla pietra grigia quando picchia il tordo, lesse Elrond, e l'ultima luce del sole che tramonta nel giorno di Durin splenderà sul buco della serratura. «Durin, Durin», disse Thorin. «Era il padre dei padri della più antica razza di nani, i lunghe barbe e mio capostipite, e io ne sono l'erede». «Allora, che cos'è il giorno di Durin?», chiese Elrond. «Il capodanno dell'anno nuovo dei nani», disse Thorin. «È, come tutti dovrebbero sapere, il primo giorno dell'ultima luna d'autunno alle soglie dell'inverno. Lo chiamano ancora giorno di Durin, ed è quando l'ultima luna d'autunno e il sole stanno insieme nel cielo. Ma questo non ci aiuterà, molto temo, perché oggi è al di là delle nostre capacità a indovinare quando ci sarà di nuovo un momento simile». «Questo è ancora da vedere», disse Gandalf. «C'è scritto qualcos'altro?». «Niente che possa essere visto con questa luna», disse Elrond, e restituì la mappa a Thorin. Poi scesero al rivo per vedere gli elfi che danzavano e cantavano, celebrando la notte di ferragosto. La mattina del giorno dopo era bella e fresca, come in un sogno. Azzurro il cielo senza una nuvola e il sole danzava sull'acqua. Partirono accompagnati da canzoni d'addio e di buona fortuna, col cuore pronto per nuove avventure e conoscendo la strada che dovevano seguire sulle montagne nebbiose fino alla terra al di là di esse.